Oggi tagliamo un importante traguardo, diamo risposte ai piccoli comuni, quelli soggetti al triste fenomeno dello spopolamento. Sono 32 all'interno della provincia di Reggio Calabria, le piccole comunità che da oggi hanno a disposizione le risorse che sono ingenti, circa 10 milioni di euro per realizzare infrastrutture e servizi con l'obiettivo di mantenere la popolazione o meglio anche attrarne di nuova. È un risultato positivo del quale l'amministrazione guidata dal governatore Scopelliti è molto soddisfatto. Un lavoro di squadra portato avanti insieme alle amministrazioni locali, ai sindaci, agli amministratori del territorio ai quali oggi dico complimenti per quello che è stato fatto ma rimbocchiamoci insieme le maniche per rispettare la tempistica impostaci dall'Unione Europea. Dobbiamo fare bene, dobbiamo fare in fretta per dare risposte ai cittadini che da noi li aspettano.